Avete presente il detto stai tranquillo che ci posso mettere la mano sul fuoco e non mi brucio? Ma perché viene detto questo detto? Buongiorno a tutti da Conoscenza Generale, Enitz, e oggi parlerò di Gaio Muzio Cordo, conosciuto meglio come Muzio Scevola. Ma chi era questo personaggio? Lui è il personaggio di una leggenda romana commentata dallo storico Tito Livio e la sua storia è ambientata nel 508 avanti Cristo. E in quel periodo gli etruschi e i romani non andavano molto d'accordo e gli etruschi erano guidati dall'Ucumone la Sporsenna mentre Muzio Cordo propose di assassinare il re Etrusco e questa proposta lui la fece al Senato perché la Sporsenna stava creando disagi di vario tipo tra cui privava le persone del cibo e cosa fece Muzio? Muzio in breve tempo è riuscito a raggiungere l'accampamento di la Sporsenna armato di un pugnale proprio nel momento che lui è arrivato i soldati erano in fila per essere pagati però quando è arrivato il suo momento lui ha sferrato un colpo mortale con il suo pugnale credendo di colpire il re nemico ma in realtà non era lui ma era un suo sottoposto cosa è successo poi alla fine? gli altri soldati di certo non è che vedendo una scena del genere stavano fermi hanno cercato di prenderlo e di portarlo davanti al re quando si è trovato di fronte a Porsenna non è che è successo che lui aveva avuto paura ha detto altre cose per scuse per cercare di fuggire no no, lui ha detto tranquillamente che lui ha ammesso che voleva farlo fuori voleva ucciderlo tranquillamente però essendo che lui ha sbagliato c'era un bracere lì vicino lui ha preso la sua mano destra e l'ha messa nel bracere fino a farsela consumare però Porsenna vedendo che lui è stato coraggioso allora cosa ha deciso? ha deciso di liberarlo e cosa ha fatto invece Muzio dall'altro lato? lui ha iniziato a mentire ha detto che c'erano altri 300 giovani nobili romani che l'avrebbero ucciso che lui ha fallito ma lui era l'unico diciamo al momento però poi sarebbero arrivati gli altri quindi era tutto un progetto per toglierlo di mezzo in ogni caso allora cosa è successo? che Porsenna si è preso paura e allora ha deciso di trattare con Roma per trovare la pace tra i due popoli più o meno la storia è andata così diciamo di questa leggenda ma il punto è perché allora è diventato Muzio cordo è diventato poi Gaio Muzio Scevola perché Gaio Muzio Scevola in realtà cosa significa? Muzio il mancino questo era perché lui si è bruciato la mano fino a farsela consumare e quindi doveva utilizzare per forza solo la mano sinistra ed è per questo motivo che viene chiamato così e questa leggenda almeno mi veniva raccontato nel passato almeno anche dieci anni fa quindici anni fa che le persone una volta lo studiavano a scuola ma adesso le scuole non lo fanno più però una volta lo facevano ed essendo che mi è stato sempre raccontata sta cosa ho deciso di raccontarla pure a voi soprattutto magari a chi è più giovane magari non ha mai sentito di questa storia che però magari potrebbe essere curioso di sentirla e con questo è tutto io vi ringrazio attivate la campionella come vi dico sempre iscrivetevi se ancora non l'avete fatto mettete un bel mi piace e condividete sempre diciamo il più possibile i miei video affinché più persone possano venire a conoscenza di queste cose e ricordatevi che ci sono pure su twitter su facebook pure su tumblr su telegram e praticamente ci sono quasi dappertutto e io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao